Uno spazio che era del comune di Casabatore come biblioteca, noi l'abbiamo rivitalizzata. Percorsi riabilitativi e altre attività per pazienti affetti da patologie psichiatriche finalizzate a favorire il loro reinserimento sociale e a migliorare la qualità della vita sono al centro del progetto Biblioteca della Salute. La biblioteca comunale di Viale Marconi a Casabatore è stata messa a disposizione grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Napoli 2 Nord e il comune di Casabatore. È stata riattivata uno spazio che era del comune di Casabatore come biblioteca, noi l'abbiamo rivitalizzata e abbiamo un progetto in parte nei comuni di Casabatore per la gestione delle attività di tipo sociale e culturale. Abbiamo questo gruppo di riabilitazione che si occupa delle attività e servizi della biblioteca che vanno dall'apertura a chiusura, vanno dall'archiviazione, catalogare libri, gestiscono l'area del libro sospeso e soprattutto promuoviamo eventi, seminari in questo interscambio continuo, interconnesso con la cittadinanza tutta. Tanti gli eventi e percorsi formativi in programma che vede il coinvolgimento di associazioni locali come SOS, Psica e la Fondazione Onda per il benessere delle donne. È stato importante l'evento formazione che si è tenuto per 12 mesi. Abbiamo formato ogni settimana famiglie, volontari, giovani che frequentavano la biblioteca con i nostri anche utenti esperti per avvicinare tutti alla comunità che insieme si mette, progetta e quindi include Grazie a tutti.